L'Unitalsi è un'associazione nata nel 1903, conosciuta da molti per la realizzazione dei pellegrinaggi all'Urd, con il treno bianco per assistere gli ammalati, ma non si occupa solo di questo, infatti sostiene anche numerosi progetti. All'associazione ormai diffusa in Italia aderiscono più di 100.000 iscritti ed è impegnata quotidianamente sul territorio al servizio delle fasce disagiate e la popolazione, grazie al costante impegno di volontari. Per sostenere i numerosi progetti che vanno dall'assistenza domiciliare agli anziani alla creazione di laboratori e attività formative per i minori, oggi e domani sarà possibile acquistare una piantina d'ulivo negli stand presenti nelle piazze e davanti alle chiese della città. L'Unitalsi è una realtà nazionale che conta oltre 100.000 soci, ma quello che è importante è che porta all'Urd circa 70.000 persone l'anno, ma la nostra non è soltanto un'attività dei pellegrinaggi, l'Unitalsi ha anche altre attività di assistenza domiciliare agli ammalati o di case famiglie o di case di assistenza ai genitori che portano i bambini agli ospedali. Poi quest'anno è un anno particolare perché festeggiamo, come vedete, anche qua i 110 anni della nostra associazione, quindi è un'associazione che ha una storia e che è radicata in tutto il territorio nazionale. In questa occasione è proprio la giornata nazionale dell'Unitalsi, è una giornata in cui l'associazione fa conoscere la propria attività. Qua a Palermo avremo degli stand qua a Piazza Unità d'Italia, poi avremo degli stand in Via Magliocco e al TC2 sia oggi che domani.